Buongiorno, sono Maddalena, mamma di Nicole, una bambina di sette anni affetta dal disturbo dello spettro autistico. Lei a settembre ha cominciato le elementari e per lei è stato un grande cambiamento, perché ha cambiato struttura, ha cambiato maestre, non ha affatto in tempo ad abituarsi a tutto questo, arriva il coronavirus. Quindi altro cambiamento, si è ritrovata ad essere rinchiusa in casa, non poter più vedere i suoi amici, non vedere più le sue maestre. Una piccola fortuna noi l'abbiamo avuta nel mantenere l'insegnante di sostegno che aveva all'asilo. Quindi quello è stato un punto molto importante per quanto riguarda la routine della bambina. Per quanto riguarda anche le terapie, ci sono state sospese e mi sono ritrovata io a casa, perché il mio è stato uno dei settori che ancora non ha ripreso a lavorare e quindi diciamo che è una fortuna, perché comunque ho potuto seguirla per quello che ho potuto, perché comunque per fortuna la logopedista, la psicomotricista molto brave, molto attente e mi hanno seguito con videochiamate tutte le settimane, più volte a settimana. Le prime settimane Nicole, collaborazione zero, cioè proprio non ne voleva sapere. Piano piano siamo riuscite, lei le videochiamate non vuole, cioè lei il telefono lo vuole per guardare i suoi cartoni, nei suoi video, ma non vuole vedere qualcuno interagire al di là dello schermo. Io ho mia mamma che vive in Puglia, ogni tanto facciamo delle videochiamate e lei scappa. Ho avuto anche una fase di, chiamiamola depressione, perché non sapevo come... quasi non riuscivo più a comunicare con mia figlia. Ed è stata abbastanza dura, però va meglio. Nicola adesso almeno parla quando vuole mangiare qualcosa, ma di fare i compiti... niente. Non... quello è un punto proprio dove dobbiamo ancora lavorare parecchio. Il suo papà lavora nell'ambito alimentare, quindi lui non si è mai fermato. Abbiamo questo problema, non sapendo quando riprenderò a lavorare, quali saranno i miei orari, dove potrò portare la bambina, perché appunto mia mamma vive giù in Puglia. I miei suoceri sono già più in là con l'età e quindi non avendo scuole, centri dove poter portare la bambina mi inquieta parecchio, quindi non lo so più. Grazie. 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 Grazie.